voglio tornare negli anni ah scusate stavo mangiando un'arancina questa qua col salmone perché oggi è la giornata di santa lucia e oltre a santa lucia c'è un santo palermo un nuovo padrone a palermo che è il palermo calcio che ci ha fatto vincere una partita tutto sommato ottima bella a tutti ragazzoli bentornati in questo nuovissimo video io sono just tiger e oggi abbiamo visto finalmente un'altra partita un post partita interessante che andremo ovviamente a fare oggi che è la partita palermo casertana è un post partita sicuramente molto breve come l'ultima volta col foggia ultimamente ci sto riuscendo pian piano a portare qualche contenuto extra rispetto al lunedì giovedì e quindi mi va anche bene così dunque partita direi meritata la casertana ha messo sia no due o tre volte in difficoltà nell'arco di tutta la partita il palermo casertana decimata per via del diciamo del covid che ha contagiato sei o sette tesserati mi sembra della squadra e lo posso anche capire noi sappiamo cosa è successo forse anche peggio abbiamo tutta la squadra fuori e avevamo solo 11 titolari però tutto sommato la casertana qualche brivido diciamo ci ha fatto vedere confedato e siamo riusciti molto bene invece a chiudere castaldo in fase difensiva oggi non abbiamo preso gol ritorniamo a fare punti dopo le ultime due partite dove abbiamo ottenuto solo un punto con la viterbese e la sconfitta ovviamente meritata foggia abbiamo affrontato una casertana con le unghie con i denti abbiamo sprecato tantissimo abbiamo beccato un arbitro che c'è spulso marconi che come al solito diciamo che questa volta l'arbitraggio ancora una volta ha fatto parlare di sé e visto che un giocatore della casertana ha messo la mano al collo a marconi marconi giustamente ha reagito vediamo se la società farà ricorso per quello che è successo però penso proprio di no e poi non ci aiuteranno mai quindi ne dubito però a parte questo diciamo che la casertana è andata meglio una volta che è entrato fedato però dopo di che questa squadra parlo del palermo ha giocato molto bene ha rischiato un sacco di volte comunque in qualche circostanza ad esempio dopo il gol di rauti molto bello detto sinceramente dovevamo fare più gol doveva fare più gol nel primo tempo abbiamo sprecato tanto l'arbitro ci ha annullato praticamente due gol in fuorigioco ancora ancora posso capire quello di canutè ma quello di lucca alzo le mani e dico com'è che l'ha annullato però alla fine il ragazzo si è rifatto nel secondo tempo chiudendo definitivamente la partita sul 2 a 0 abbiamo sprecato di nuovo con rauti abbiamo sprecato poi con valente diciamo che in attacco oggi si poteva fare di più l'ho detto questo palermo secondo me gli manca sempre qualcosa lì davanti per fare più gol però per il resto oggi ci mancavano saraniti la prossima volta ci mancherà sicuramente marconi perché non ci andranno a revocare una squalifica anche immeritata nei suoi confronti però abbiamo rivisto finalmente in campo lancini abbiamo visto in campo santana e devo dire che hanno giocato una partita normale a cardi superlativo ha fatto un'ottima partita e oggi se non gli avessero annullato quei due gol avrebbe fatto sicuramente doppietta e tra l'altro mi sembra che uno dei due gol ora non voglio sbagliare mi sembra che non era in fuorigioco ma fu parato dal portiere adesso mi sfugge qualcosa però in compenso dico che è stato un palermo ottimo molto cinico in quelle due azioni dove ha fatto i due gol sia nel primo che nel secondo tempo però è molto sprecone sa costruire bene la manovra ma certe volte lì in attacco soprattutto lucca pecca di egoismo poteva dare la palla valente del per il gol del 2 a 0 nel secondo tempo mi sembra e non l'ha data e quindi là si è persa un'occasione veramente limpida per chiuderla e qua secondo me sbaglia il palermo perché in queste partite seppur diciamo questa partita ormai era addormentata perché il palermo oggi veramente ha giocato un'ottima partita somma su tutti anche in difesa però non lo so ha sprecato tantissimo e inoltre queste partite qua se anche sono addormentate seppur sono delle partite dove puoi vincere anche 1 a 0 non ti puoi mai fidare del tempo che c'è a disposizione e del solo golletto che abbiamo fatto nel primo tempo dovevamo sempre ingranare fare più azioni fare più golle invece purtroppo il palermo ancora una volta nonostante abbiamo fatto un'ottima partita vinciamo solo per 2 a 0 per quello che è stato creato in campo però in compenso che cosa dice la classifica la classifica significa che adesso fa vedere un palermo sicuramente migliorato nonostante la mancanza di saraniti e però devo dire che lì in attacco lucca oggi ha fatto un'ottima partita non si diciamo meritava quel gol in fuorigioco anzi doveva essere convalidato canutè oggi veramente un'ottima partita gli è mancato soltanto il gol e il portiere della casertana e vorrei fare i complimenti al portiere della casertana mi sembra classe 2000 che ha fatto qualche parata direi molto molto bella e tanto di cappello alla casertana che in alcune circostanze ci ha provato in qualche modo sapendo che comunque oggi non potevano vincere per tanti motivi anche per il fatto che ci sono stati degli infortunati della gente comunque dalla loro squadra per via del covid ovviamente era fuori però tanto di cappello però non accetto il fatto che c'è stata in quella circostanza qualcuno che è tenuto per il collo uno dalla nostra difesa ovvero a marconi e lui ha reagito giustamente io dico no rimprovero il fatto che lui abbia reagito però l'arbitro non è possibile che ogni volta ci deva munire a tutti al centrocampo al primo fallo e loro al primo contatto ancora il giorno non gli lo dà boscaio infatti aveva fatto dei cambi a centrocampo aveva tolto auger e aveva tolto ovviamente palazzi e li ha sostituiti con bro e luperini che paradossalmente oggi hanno fatto una partita abbastanza buona non hanno fatto diciamo degli errori così diciamo strani devo dire oggi hanno fatto veramente una bella partita fatemi sapere la vostra ragazzi complessivamente do un sette e mezzo a questo palermo non dico dieci perché significherebbe proprio essere proprio di parte di parte ma anche se tratto di cose del palermo sono uno molto obiettivo il gioco mi è piaciuto bisogna avere più concretezza ed è per questo che non gli do un perché secondo me potevamo chiudere la prima la partita però in compenso un'ottima partita devo dire siamo in zona playoff il palermo adesso mi sembra che dovrà affrontare la vibonese la vibonese dell'ex danilo ambro e speriamo che danilo ambro non abbia il dente avvelenato contro di noi cosa molto probabile detto questo ragazzi noi ci becchiamo la prossima e niente ragazzi sempre forza palermo ciao 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 ciao